Chi non ha mai sbuffato di fronte al proprio voto di maturità? Chi non ha mai avuto la tentazione di accerchiare, magari con qualche amico ben piazzato, il professore che all'orale vi ha fatto le domande più difficili, che neanche la massima di Socrate, io so di non sapere, vi avrebbe salvato? A pochi giorni, dalla fine dell'esame di maturità, ecco che spuntano le lamentele. Voti troppo bassi o troppo alti, aiuti ingiustificati a chi non ne aveva diritto, argomenti fuori programma e chi ne ha più ne metta. Ma a San Donà, un gruppo di genitori non si è fermato qui e ha fatto ricorso all'ufficio scolastico regionale. Nessun 100 studenti brillanti, questa la denuncia. Nel mirino della loro querelle, una commissaria esterna di lettere, colpevole secondo loro di essere stata troppo severa durante la correzione della prima prova. A detta dei genitori, i figli avrebbero perso da 1 a 6 punti e l'occasione per alcuni di loro di raggiungere l'agoniato 100 o 100 elode. Una penalizzazione è questa che non solo scalfisce l'orgoglio e la soddisfazione dei giovani studenti, ma rischia anche di chiudere qualche porta e segnare un destino, come quella di alcune facoltà universitarie dove il voto di maturità pesa sull'esame di ammissione, a volte anche del 50%. Il preside dell'Istituto Alberghiero di Jesolo, pur non entrando nel merito della questione perché non riguarda la sua scuola, spezza una lancia a favore della commissaria incriminata. Il voto è collegiale, dice. Ci sono delle griglie di valutazione che vengono discusse ed approvate prima ancora di procedere alla correzione dei compiti. Sarà vero? O il voto è già deciso prima ancora che lo studente possa scrivere il suo nome sul foglio protocollo? Dite la vostra sulla nostra pagina Facebook.